... Signore e signori, un attimo di attenzione! Musico Taccabanda! Gentilissimi signori, un re, un regno per scenario e principi per attori, una platea di rapper, spettatori e vale dei miei spettacoli una grande, ricca e immensa rappresentazione voi vedreste allora agire qui come dalvero su questo palco amleto, il dubitante amleto voi vedreste schiere di comparse, scenografie imperiose vedreste il teatro in tutta la sua grandezza e che non abbiamo i mezzi perdonate dunque carissimi signori se le nostre anguste e misadorne eventi osano presentare un così grandioso argomento il teatro vestito di una sacrilega e disadorna veste come quella che indosso ma che dire la crisi riduce i mezzi però l'immaginazione non conosce la parola crisi immaginiamo adunque carissimi signori che qui all'osteria del treno possa avvenire un grandioso spettacolo domenica 25 settembre putacaso un amleto incredibile con aperitivo, concerto, super cena shakespeariana ma che dico signori se noi portassimo qui il teatro domenica 25 settembre ma voi non accorrereste numerosi e ti dovete tutti dire sì io più lo sì e allora signori adesso vi darò dei volantini come pro memoria intanto grazie per l'attenzione e scusate l'interruzione mi raccomando partecipate di numerosi grazie